A Domodossola una mostra dedicata a De Chirico e De Pisis sarà inaugurata il 14 luglio. Finalmente riapriamo in tutto il suo splendore il piano terreno di Palazzo San Francesco. Dopo il bacio di Rodin arrivano 40 opere di De Chirico e De Pisis che verranno messe in dialogo con una serie di nature morte napoletane del 600. Quindi quello che è l'aflato, l'amore per la realtà di Caravaggio vedremo come in realtà in De Pisis e in De Chirico diventa metafisica, diventa sogno. La realtà che va oltre appunto il reale, infatti il sottotitolo di questa mostra è proprio La Mente Altrove. L'apertura con una notte bianca dedicata alla cultura con biglietto unico per le mostre di Palazzo San Francesco e di Casa De Rodis con visite guidate con i curatori e nelle piazze cittadine eventi e concerti a ingresso libero. Uno sarà un'anteprima all'insegna della musica elettronica di Next Stones. La mostra promossa dal Comune è sostenuta da Fondazione Comunitaria VCO e Fondazione Ruminelli. Quest'ultima ha presentato altre iniziative come l'apertura estiva dei musei domesi grazie all'accordo con Associazione Musei d'Ossola e altro. La notizia forse che a molti assolani, a noi in particolare, sta molto a cuore è che oltre alla strategia col Comune abbiamo iniziato un rapporto molto interessante e fattivo con i padri rosmignani perché noi vorremmo insieme a loro recuperare, catalogare e quindi nel tempo mettere a disposizione gli studiosi che è l'immenso patrimonio culturale messo insieme in decenni di attività da Professor Bertamini, l'archivio di Ocellana. Si arriva così a uno slancio culturale importante ed inedito per la città. Una sinergia che si fa sempre più forte, una sinergia tra il Comune di Domodossola, la Fondazione Ruminelli, l'Associazione Ruminelli che sicuramente porterà ampio respiro a un borgo della cultura che aspettava effettivamente di riempirsi di contenuti.